Ciao a tutti i nostri spettatori. E benvenuti a un nuovo aggiornamento dal mondo del Grande Fratello. Oggi, siamo qui per svelare la verità su una situazione che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Mirko Brunetti, un volto noto per la sua partecipazione a Temptation Island, ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, portando con sé una storia complicata. Durante una conversazione con Alfonso Signorini, Mirko ha rivelato che la sua relazione con Perla è giunta al termine, ma non a causa del programma. Dopo tre anni, la loro storia era diventata tossica, portando a una difficile decisione. Ma la vera sorpresa è che Mirko ha conosciuto Greta durante la sua permanenza a Temptation Island, e tra di loro è nata una connessione mentale profonda. Tuttavia, nonostante questa connessione, la relazione tra Mirko e Greta non è andata come previsto, portando a una pausa significativa tra i due. Le cose si sono complicate ulteriormente quando Greta ha accusato Mirko di averle raccontato bugie a causa di un messaggio cancellato indirizzato a Perla. Mirko, in diretta nella casa del Grande Fratello, ha confessato ai coinquilini che in realtà lui e Greta non si sono mai separati del tutto, nonostante attraversino un periodo difficile. Mirko ha raggiunto Greta persino a Cagliari per cercare di chiarire le cose, dimostrando un desiderio di risolvere le tensioni. Mirko ha dichiarato. Non ci siamo proprio lasciati? È complicato. Vediamo come vanno le cose. Per adesso però non posso dire che è finita. Nel frattempo, Greta ha annunciato sui social di aver lasciato l'Italia e di non seguire le vicende di Mirko nella casa del Grande Fratello. Questa situazione sta prendendo una piega inaspettata. E noi saremo qui per tenervi aggiornati su ogni sviluppo. Se siete interessati a seguire le ultime notizie sul Grande Fratello e altre storie intriganti, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per non perdere nulla. Grazie per il vostro supporto. E a presto.